Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo a Miri, al confine con il Brunei e il mio viaggio prosegue. Questa volta non proseguirò con la mia moto perché è veramente in condizioni pietose e penso proprio che se la vedono quelli del controllo doganale del Brunei, come minimo me la sequestrano. Quindi una moto che ho preso a noleggio, me l'hanno data scassata in quel modo lì, nelle foto era un gioiellino, era perfetta. Il mio viaggio continua, questo è l'autobus che mi porterà in Brunei, siamo veramente vicinissimi alla dogana, giusto una decina di minuti, ci si potrebbe andare anche a piedi tranquillamente. Prendiamo l'autobus così ci porta nella Brunei Capital, nel centro e andremo ad esplorare questo posto. Per il momento quest'area della Malesi a questo livello l'abbiamo superato, siamo andati a vedere tutti i vari posti, a provare le varie cibarie, abbiamo scattato delle bellissime fotografie, abbiamo guardato e osservato la natura, siamo stati al mare, in montagna. Quindi questo livello l'abbiamo superato, passiamo al livello successivo ovvero il Brunei. Il viaggio continua, cari amici continuate a seguirmi e ci sentiamo alla prossima, ciao! Grazie!